Per questo gioco può chiedere la collaborazione del pubblico? Siamo sette oggetti con M, che inizio con M. Sette oggetti, pronti? Pronti? Partenza, diamo il via col cronometro. Pronti? Siamo pronti? Pronti? Via, siamo partiti. Più che matita è un pennarello, comunque la diamo per buona. Ecco, il megafono, sette oggetti. La matita è due, non valgono. Portiamo anche il signore, certo, sì, il signore si chiama Mario. Sette, ci siamo. Ci siamo, contiamo, vediamo. Allora, che cosa c'è qua? Matita, mutande, mollettone, matita, mela, megafono. Eh, beh, l'abbiamo già detta, dunque, uno, due, tre, quattro, cinque, magliette, sì, ci siamo. Aiuto però, Mario in Pisa, difficilissimo. Grazie, grazie. Beh, allora. Allora, i propri dati. Queste le buste, sì. Li consegniamo i pre... Allora, proseguiamo con un altro concorrente. Roberto, chi è il prossimo? Eh, il signor La Sosso. Ecco, il signore da dove viene? Da Milano. Da Milano, come si trova in Abruzzo? Abbastanza bene. Tornerà il prossimo anno? Ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Allora, in bocca al lupo. Grazie. Vediamo se il signore ce la fa. Ha già giocato altre volte a questo gioco? Sì. Quindi è pratico. Dai. Pronti? Sì. Sei pronto Cristiano? Cristiano col tempo. Pronti? Bravo. Vai, vai, dritto, dritto. Via. Ecco, suggerimenti sbagliati. Sinistra, sinistra, sinistra ancora, 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 destra, destra, sinistra. Sinistra, 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 avanti un poco, avanti un poco, sinistra, 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 sinistra. Ci siamo quasi Roberto. Eccola, presa, perfetto. E abbiamo il biglietto, qui si è perso il biglietto. Intanto se mi date le buste con i pegni. Il biglietto, il biglietto, leggiamo il biglietto. Mi hanno mangiato. È sempre il solito, no? Vediamo un po', queste sono le buste, sì, solo queste tre ormai abbiamo. Allora, ci siamo persi il biglietto? Vabbè, comunque diciamo che ha vinto un barazzolo di miele, ok signora? Diciamo che ha vinto, perché non si trova più? Vabbè. No, è la busta. Allora, va bene signora. Qua suggeriscono la tre, ma la tre è già stata bruciata. Allora, se ci spostiamo di qui, di qua, così la inquadrano. Allora, il pegno numero dieci. A ripetere cinque volte consecutive, velocemente, la frase tigre contro tigre. Senza sbagliare e in caso di errore si ricomincia da capo. Pronti, aspetti che tolvia. Pronti, via. Tigre contro tigre, 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 tigre contro tigre. Ecco qua, c'è stato un suggerimento del signore. Perfetto, allora Roberto, che punto siamo? Dobbiamo rimettere un attimo la pentola, le pentole perché sono state tutte rotte. Sì. Quindi io proporrei di mandare un attimo di pubblicità. Sì, mandiamo qualche secondo di pubblicità, ci ritroviamo dopo insieme qui sulla spiaggia di Roseto, al camping Lido d'Abruzzo per giocare con noi. A dopo.